4 dicembre 2021 dopo le piogge una scaturigine è emersa in sinistra idrografica alla macera salando verso campo lacciano subito a monte della curva col ponticello ecco qui la portata è di almeno tre quattro litri al secondo in questo momento qui si vedono sullo sfondo le montagne di bagnare a est questo è il punto di emersione la scaturigine quindi è proprio qua sotto questo castagno semi bruciato ed è in sinistra idrografica della vallicola che scende verso la macera